bene ragazzi ciao amici di Fisherlandia e benvenuti a un nuovo video oggi ragazzi parliamo di aging vi voglio fare vedere un prodotto questa è una recensione a richiesta perché mi è stata molto richiesta vi voglio fare da vedere da vicino la Aori Stick Limited quindi il modello che è appena uscito di casa Cresì che vuol dire casa Atec che vuol dire casa Taywalk come sapete Atec e Cresì sono brand di Taywalk quindi si utilizzano gli stessi grezzi della famigerata e della famosa azienda giapponese lavorati in modo diverso per contenerne appunto i costi devo dire proprio a riguardo del costo che credo di poter asserire che nel 2019 2020 una delle canne più vendute in assoluto su quella fascia di prezzo quindi media Japan style quindi con le caratteristiche vere di un fusto giapponese è stata la Aori Stick appunto della serie precedente in questo caso questa è già da un po' che l'abbiamo in vendita la trovate chiaramente linkata qua sotto in descrizione se la volete andare a vedere molto interessante le rifiniture il fusto che fortunatamente è praticamente uguale a quella passata è migliorato un po' l'anello devo dire la verità una canna che ha delle misure molto interessanti ma poi le discutiamo insieme nelle mie considerazioni finale adesso andiamo a vederla da vicino e rimanete con noi bene partiamo come di consueto dalla custodia custodia azzurra ben fatta con questo materiale plastico troviamo subito nella parte frontale di questa custodia come succede spesso nelle canne appunto giapponesi troviamo dei bugiardini chiaramente scritti in giapponese in cui non si ci capisce granché troviamo anche il nostro tagliandino con qualche caratteristica in questo caso questa custodia della 822 ml cresì a ori shaft in questo caso la dicitura sopra la custodia poi la vedremo anche sul fusto della canna abbiamo qua qualche caratteristica tecnica la lunghezza in questo caso 8 piedi e 2 115 grammi eg max 3.5 vi ricordo che ml sta per medium light quindi il eg max è il 3 e mezzo mentre invece dove troviamo soltanto la m nei codici appunto dei prodotti possiamo andare a usare fino al 4 pollici andiamo ancora avanti troviamo qua semplicemente la scritta cresì stampata è una canna una custodia scusate con la sua taschina doppio strappo con le due taschine separate all'interno per poterle contenere quindi gli elementi e vedete lì dietro appunto la canna che appare andiamo a vedere invece quella che è la parte importante di tutto quanto che poi appunto è il manico quindi andiamo a valutare un po di cose partiamo subito dal tappo e va durissimo qua la qualità è indubbiamente non dobbiamo neanche soffermarci troppo japan style nel senso che il giappone con questi colori anodizzati questo viola rosa azzurro ci ha abituati molto molto bene quindi vediamo questo eva interrotto da questa ghiera qua una bella legatura fatta chiaramente bene qua troviamo il classico carbonio delle auristiche questo carbonio trecciato troviamo qua il simbolo cresì passiamo subito alla placca molto molto bella mi piace moltissimo questa ghiera in rifinitura in carbonio sempre che riporta questo colore una placca chiaramente originale fuji spero che si possa vedere con il marchio cresì nella parte di sotto ha una cosa che è importante da dire in queste placche alloggiano mulinelli anche di grandi dimensioni anche se non sono chiaramente giusti da montare su queste canne non ci sono problemi perché gli spazi interni del gambo sono quelli giusti troviamo poi questa smussatura la vedete questa parte diciamo più diciamo scavata di questo eva che si diciamo ripropone lungo tutto appunto il diametro dell'impugnatura un impugnatura giusta un manico assolutamente giusto guardate come è preciso per me quindi passa attraverso ve lo faccio vedere così agevolmente attraverso il mio diciamo l'interno del gomito quindi siamo abituati a vedere queste cose la giro un secondo così vediamo scritte dalla parte dritta in questo caso vi sto facendo vedere appositamente la 902 attenzione io vi avevo detto in qualche video che la tendenza era quella di aumentare un po quelle che erano le misure in questo caso abbiamo una 2 metri 74 esattamente che viene proposta in due versioni la 902 m e la 902 ml che non mi piace tantissimo ma la m veramente bella perché allungando la canna con questi quattro pollici di portata non ci accorgiamo che la canna sia più pesante disegnata quindi qua da ate che come vi dicevo prima la scritta crazy e andiamo ancora avanti facendovi vedere sempre questo carbonio poi troviamo sulla canna questo chiaramente questo tagliandino dove riporta tutte le caratteristiche tecniche appunto di questa in questo caso nove piedi qua abbiamo un anello fuji originale concert niente di che ma un anello giusto abbiamo qua spostato hanno un po spostato la direzione di fare di avere sempre solo questo anello ponte lungo molto stretto classico da aging con un anello medio mi piace anche questa scelta arriviamo fino al nostro innesto un innesto chiaramente fatto a modo fatto a dovere non è un innesto a spigò però diciamo che è molto molto preciso con questa rifinitura sempre sulla sua parte finale andiamo a vedere insieme un secondo la cima quindi ripartiamo subito da quella che è la cima verniciature sempre di alto livello troviamo sempre un ponte singolo per quanto riguarda il secondo il terzo anello partiamo arriviamo al quarto anello è un ponte un monoponte ve lo faccio vedere così sperando che si possa vedere quindi un monoponte della stessa serie quindi andiamo al quarto anello quinto sesto settimo e ottavo anello sulla punta con il suo puntalino devo dire una canna molto molto sensibile di punta anche se questa è la quattro pollici come portata massima quindi secondo il mio punto di vista potrebbe anche essere utilizzata magari non con un due e mezzo ma con un tre per le sepie e avere la giusta la giusta robustezza benissimo andiamo un secondo le mie considerazioni finali che mi voglio dilungare un attimo su questo discorso della lunghezza bene siamo tornati abbiamo visto da vicino questa ori stick come vi dicevo all'inizio del video una recensione a richiesta nel senso che mi era stato molto richiesto in passato di vedere questa nuova ori stick limited eccola qua l'abbiamo già potuta valutare in mille modi anche perché il fusto come vi dicevo è quello dell'anno passato è una canna molto interessante molto interessante sono gli allestimenti questi anelli non sono male assolutamente l'altezza della placca è perfetta la placca molto bella la rifinitura inutile da dire non ci dilunghiamo troppo una piccola parentesi su quelle che sono le lunghezze e le grammature le grammature gli utilizzi idoni per questa canna da aging si parte da una 8 piedi 2 che è un classico un ml che porta fino a tre pollici e mezzo si passa poi attraverso la 8 e 6 in due versioni ml e m vi ricordo che ml porta fino a tre e mezzo m vuol dire che ha un fusto leggermente più rigido ma non è meno sensibile di punta anzi le punte le cime sono praticamente pressoché uguali molto interessante ve l'avevo già detto l'anno scorso in qualche video che sarebbero iniziati arrivare al japan style un pochino più lunghe le 9 piedi una canna da 9 piedi qua devo dire che la ml la trovo un po morbidina soprattutto per quanto riguarda il movimento aging al calamaro schietto ma mi piace molto invece la m quindi questa qua perché è una canna che con un 4 pollici di portata anche se uno non utilizza 4 pollici ha una bella schiena la lunghezza su queste canne mi verrebbe da dire che potrebbe adattarsi benissimo a chi in scogliera deve fare un certo diciamo un certo lancio in distanza per arrivare a determinati punti laddove non si ci riesce sicuramente il fusto di questa canna ci dà una mano perché ha una buona flessibilità in primis come tipologia proprio di materiali di carbonio la lunghezza sicuramente la fa da padrone non dovrei dirlo ma lo dico lo stesso potrebbe essere una canna che nel 2 metri e 74 ma anche nell'8 e 6 e anche in questo 2 metri e 50 qualcosa potrebbe adattarsi benissimo alla pesca la spigola perché no potrebbe anche andare bene e lo dimostra ancora di più il tipo di anello che non è solo specifico si potrebbe montare anche un trecciatino leggermente più grande il discorso interessante di questa canna concludendo è il discorso del rapporto qualità prezzo ottimo rapporto qualità prezzo inutile dirlo ma soprattutto molto interessante perché è difficile trovare una canna japan style queste sono canne japan style hanno proprio lo stile al di là della produzione delle marche è proprio si identifica con japan style il fatto che il fusto abbia un'azione in stile giapponese quindi questa è una canna del genere e devo dire che è molto difficile trovare sul mercato oggi delle canne con queste azioni vere japan style a quel prezzo perché comunque non è un prezzo basso si parla di 160 170 euro mi sembra di ricordare una cosa del genere è un prezzo medio ma rimane una comunque delle più vendute canne su quel su quella gamma di prodotto perché solitamente si identificano canne che arrivano fino ai 110 115 poi c'è un po un buco e quindi si deve andare sulle giapponesi come taywalk come yamashita come tante altre bellissime canne su costi molto più alti in questo caso abbiamo una cosa media forse anche per quello che è una canna molto riuscita una canna che è sempre stata molto venduta nella versione passata e lo è ancora ad oggi quindi ragazzi grazie per essere stati con noi spero che questa diciamo recensione vi sia piaciuta non mi sto dimenticando di darvi un voto ve lo do subito a questa canna da un voto 8 senza senza nessun tipo di problema mi sembra giusto potrebbe arrivare a un 8 e mezzo questo voto adesso stavo pensando alla lunghezza in più perché io quando do i voti li do così diciamo in automatico al volo quindi un 8 8 e mezzo ci potrebbe stare per la scelta delle due misure la lunghezza lunga un pochino troppo morbida secondo il mio punto di vista per l'aging in quanto tale al calamaro in scogliera e non solo ma è una buona votazione una bella canna che potrebbe fare far sì che molti di voi si possano trovare un po a che fare con queste nuove lunghezze anche la 8 e 6 è una cosa media che potrebbe andare bene comunque senza dilungarci troppo ragazzi spero che questo video vi abbia fatto piacere continuate a seguirci sui nostri social iscrivetevi al canale mettete un like condividete il video iscrivetevi sempre al canale attivate le notifiche eccetera eccetera grazie a tutti veramente questa canna è linkata qua sotto in descrizione non so se ve l'ho detto adesso ve l'ho detto ciao ragazzi grazie a tutti e come dico sempre io che la pesca sia con voi ciao 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 ciao